L'ospedale del Felettino, che aspettiamo da più di 30 anni, forse è ai nastri di partenza. È stato presentato infatti il progetto esecutivo dalla società che ha vinto l'appalto, che è la Guerrato di Rovigo. Ora questo progetto sarà valutato dalla società di consulenza Rina, che si occupa di certificazioni, e se otterrà il via libera, se otterrà il via libera come pare, tra un paio di mesi dovrebbero iniziare i lavori. In una conferenza stampa a Genova, il presidente della regione Giovanni Totti ha detto, frase testuale, che la costruzione durerà circa tre anni nelle sue opere murarie. Dunque non avremo l'ospedale edificato entro l'estate del 2026, come era stato annunciato un paio di anni fa, ma nel 2027. E poi ci vorrà altro tempo per arredarlo, sistemare i macchinari, le applicature diagnostiche e organizzare tutti i servizi. Insomma, non avremo un nuovo ospedale bene che vada prima dei prossimi quattro anni. Ma a questo punto, dopo anni di gare deserte, gare annullate, appalti rievocati e annunci puntualmente disattesi, l'importante è aprire il cantiere e partire coi lavori. Il governatore è impegnato a stringere i tempi, ma il Partito Democratico, per bocca del segretario provinciale Jacopo Montefiori, gli ricorda gli otto anni persi da quel 2016, quando il governatore, da poco eletto, venne a posare la prima pietra nel cantiere del Felettino, che poi, con la revoca dell'appalto alla società Pessina, fu abbandonato e così è rimasto sino ad oggi. Certo, nei prossimi anni dovremo convivere con un ospedale, il Sant'Andrea, che ha bisogno di continui rattoppi ed è diventato problematico persino trovare medici disposti a lavorarci. Per questo ci sono bandi di concorso che vanno deserti ed è anche per questo che molti spezzini vanno a far sicurare altrove, come sappiamo. In attesa del nuovo Felettino, un nodo da sciogliere resta quello del cannone anno da 16 milioni che per 25 anni l'AS dovrà pagare al costruttore. Totti ha detto che di questo onere si farà carico la regione, ma non c'è un impegno ufficiale che lo confermi. Ed è bene che il nodo venga sciolto prima del voto regionale del prossimo anno.